L'ultimatum è stato lanciato direttamente dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rivolgendosi ai Presidenti del Senato e della Camera. Confido che entrambi vi adopererete presso i gruppi parlamentari per conseguire la convergenza tra maggioranza e opposizione. Al centro del contendere l'elezione degli otto membri laici del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura. Un dibattito che riguarda da vicino Ancarezzo, perché tra i candidati forti c'è proprio il primo cittadino, Giuseppe Fanfani, A questo punto, viste anche le parole decise di Napolitano, mercoledì 10 settembre dovrebbe essere il giorno della verità. La palla torna nuovamente a Matteo Renzi, più nella veste di segretario di partito che di Presidente del Consiglio. È il PD, infatti, che deve raggiungere l'accordo con le altre forze politiche. Tra gli otto nomi da scegliere, quattro sono quelli che spettano al PD, uno dei quali sarà eletto Vicepresidente. Tra i nomi emersi, quelli di Paola Severino, Massimo Bruti e Giovanni Fiandaca. Quest'ultimo rischierebbe di non raccogliere il necessario consenso a causa delle severe critiche mosse pubblicamente al processo sulla cosiddetta trattativa fra Stato e mafia. C'è poi Giuseppe Fanfani, considerato molto vicino a Renzi e al ministro Maria Elena Boschi. Nel caso di elezione, per Fanfani scatterebbe la decadenza da sindaco per incompatibilità con la carica al CSM. Spetterebbe al Consiglio Comunale sancire il passaggio e affidare l'incarico all'attuale Vice-sindaco Stefano Gasperini, fino alla prima finestra elettorale disponibile, quella del 29 marzo 2015. Nello stesso giorno si vota anche per le regionali. Ma l'elezione di Fanfani al CSM aprirebbe soprattutto la partita per la scelta del suo successore, un percorso il cui esito sarebbe particolarmente incerto.